amici di milanello ben ritrovati qui a un nuovo appuntamento di calcio mercato con me io sono tiziano palmieri di pianeta milan prima di iniziare a parlarvi dei giocatori volevo augurarvi buone vacanze per chi è già in vacanza o per chi ci andrà breve mentre per chi resta nelle proprie città invito più assiduamente a seguire ancora il nostro canale per rimanere aggiornato sui fatti riguardanti il milan in questa calda estate parto subito con il primo giocatore che vi presenterò oggi si tratta di eric bailly del manchester united lui è un difensore centrale classe 1994 perciò ha 26 anni gioca nello united dal 2016 quando il club inglese lo acquistò dalla spagna per una cifra di 38 milioni di euro lo acquistò dal villareal in particolare quest'anno bailly non ha giocato molto perché è stato spesso infortunato infatti a inizio stagione si è operato al ginocchio ed è rimasto fuori per molte partite ha giocato in totale una decina di partite adesso è rientrato in squadra e magari lo vedremo avremo modo di vederlo in questa europa league con il manchester united allora è un difensore centrale come già detto di piede destro è alto 187 ed è forte fisicamente e anche bravo di testa il milano lo sappiamo che sta cercando un difensore centrale visto che almeno uno fra duarte e musacchio andrà via sono sicuri di restare sia chiaer che romagnoli e anche gabbia mi da dire che il milano ormai ha deciso di tenerlo difficilmente andrà via in prestito gabbia ma a che condizioni può arrivare bailly bailly può arrivare secondo me in prestito oppure a condizioni molto vantaggiose qualora il milano decidesse di prenderlo a titolo definitivo fra l'altro il calciatore ha rinnovato il proprio contratto con il manchester united a gennaio lo ha rinnovato fino al 2022 perciò per altre due stagioni non so se lo conoscete lui si è messo bene in mostra quando era al villareal e anche nei primi anni allo united adesso quest'anno ha avuto dei problemi fisici ed è un po calato fatemi sapere cosa pensate di bailly ma io sono sicuro che il milano comprerà un difensore centrale come profilo a me lui non dispiace anche se non mi fa impazzire preferirei altri che già conoscono il nostro campionato come ad esempio nicola milenkovice della fiorentina io andrei dritto su di lui oppure su tiago silva che è un po il mio sogno come è tornato ebraimovic vorrei anche il ritorno di tiago silva il secondo giocatore di cui vi parlo è un terzino sinistro e si tratta di vitali micolenco della dinamo kiev allora nicolenco è a 21 anni nato nel 1999 e può fare comodo al milan visto che i rossoneri stanno cercando un terzino sinistro giovane che non costi molto da tenere in naftalina come alternativa a teo hernandez nicolenco potrebbe proprio fare al caso dei rossoneri quest'anno lui nella dinamo kiev ha giocato titolare 36 presenze in totale e ha messo a segno anche 4 gol e fornito 7 assist ai compagni ha una buona fase offensiva abbinata anche una buona fase difensiva visto che in alternativa lui può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale anche se praticamente quest'anno non ci ha mai giocato ha sempre giocato terzino lo abbiamo anche ammirato in europa league con il suo club la dinamo kiev perché parliamo di micolenco perché è sponsorizzato da scevchenko sappiamo bene che sceva ha un ottimo legame ancora con il club di kiev e oltre questo micolenco e fa parte anche del giro della nazionale ucraina allenata proprio da scevchenko infatti sceva ha parlato bene di micolenco a paolo maldini e quindi il milan si è messo sulle tracce di questo giocatore che ha una valutazione di circa 10 milioni di euro perciò non è elevata sicuramente andrà via rodriguez nel ruolo di terzino sinistro sicuramente andrà via anche diego laxalt perciò il milan ha estremo bisogno di coprire quel ruolo non sono tanti i nomi che circolano a dir la verità per il ruolo di terzino sinistro in orbita milan e micolenco potrebbe essere veramente il nome giusto non so voi cosa pensate di lui se lo avete visto giocare commentate magari e fatemi sapere a me lui è un profilo che non mi dispiace affatto lo prenderei e lo farei crescere visto che comunque è giovane sicuramente ha ancora molto da migliorare sicuramente non pretenderà di giocare titolare perciò come alternativa ci può benissimo stare micolenco il terzo giocatore di cui vi parlo è una conoscenza del calcio italiano che gioca nell'udinese si tratta di rodrigo de paul de paul ormai da quattro anni che gioca nei friulani e si sta mettendo sempre ogni anno in mostra tanto che si parla in ogni estate di un possibile suo trasferimento in una big si è parlato tanto di milan nell'ultimo periodo ma nelle scorse sessioni di mercato sicuramente è stato vicino all'inter e anche alla juventus de paul è un trequartista un classe 1994 a 26 anni abbina un'ottima fase offensiva in termini di gol visto che quest'anno ne ha realizzati sette e anche una buona fase di visione di gioco dove fornisce assist ai compagni ha realizzato anche altrettanti assist e questo lo fa già da ormai quattro stagioni infatti nell'udinese ha giocato quasi 150 partite e in questi quattro anni ha realizzato in totale 25 gol fra campionato e coppa italia è un calciatore sicuramente di spessore di livello che è cresciuto molto batte i calci di rigore è un trascinatore ha infatti ha trascinato quest'anno all'ennesima salvezza la sua squadra insieme ad altri giocatori mi vengono in mente lasagna piuttosto che okaka fofana o anche il portiere musso sono diciamo i perni perni dell'udinese e depol è uno è un perno dell'udinese degli ultimi anni a me piacerebbe molto vederlo al milan anche se faccio fatica a vederlo come trequartista centrale visto che c'è già cialanoglu perché dico questo perché cialanoglu ormai si è conquistato il posto da titolare fisso ma c'è un problema che cialanoglu ha il contratto in scadenza la prossima stagione qualora il milan non riuscisse a trovare l'accordo con cialanoglu potrebbe veramente affondare il colpo su depol vendendo cialanoglu al miglior offerente infatti la chiave è questa qualora il milan vende cialanoglu si va su depol altrimenti non credo non credo ci siano possibilità per depol di arrivare al milan a meno che ci siano delle clamorose situazioni economiche vantaggiose depol ha una valutazione di 20 milioni di euro e l'udinese li vuole tutti i cash difficilmente accetta per depol alternative o comunque contropartite tecniche fatemi sapere cosa pensate di tutti e tre i giocatori che vi ho presentato sia di baili sia di depol adesso che che prima di micolenco commentate il video e condividetelo sui vostri profili social se vi fa piacere vi auguro di nuovo buone vacanze e vi invito a seguire il canale youtube un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video siamo rossoneri siamo una famiglia vera scrivi sfoga dici quel che pensi dacci la tua idea siamo rossoneri siamo rossoneri siamo quelli che non ha paura apri questo sito che ha bisogno di una voce nuova ciao ciao ciao